Controlli ad alto impatto tra Torre Annunziata e comuni limitrofi. In azione i carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata, congiuntamente ai militari del X Regimento Campania e del nucleo cinofili di Sarno, identificate 91 persone e controllati 68 veicoli. In particolare a Torre Annunziata i carabinieri della centralissima piazza Imbriani hanno sorpreso e denunciato una cittadina ucraina 48enne alla guida della propria autovettura in evidente stato di ebrezza. A Bosco Trecase invece i carabinieri hanno denunciato un 48enne per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L'uomo coltivava nel giardino sul retro della propria abitazione una pianta di marijuana alta circa un metro, protetta dall'esterno mediante un sistema di videosorveglianza. A Bosco Reale infine è scattata la denuncia anche per un 51enne venditore ambulante di articoli domestici. L'uomo è stato sorpreso in possesso di due chilogrammi di sigarette multimarca di contrabbando, occultati tra la merce esposta in vendita tra le bancarelle in strada.